Sulla regione continuano ad affluire correnti sud-occidentali anche nei prossimi giorni che saranno più umide negli strati medio-bassi dell'atmosfera. Pertanto avremo nella giornata di sabato ma anche in quella di domenica un cielo da nuvoloso a coperto con probabilmente più nubi a ridosso dell'alta pianura e della fascia prealpina, possibili deboli piogge sparse, deboli piovigini più frequenti sulle zone orientali. Le temperature resteranno abbastanza ammiti ancora con valori massimi intorno ai 18 gradi in pianura sulla costa, lo zero termico in quota intorno ai 2.600 metri. Condizioni ancora umide nei bassi strati all'inizio della prossima settimana, pertanto anche lunedì e martedì avremo un cielo da nuvoloso a coperto con foschie e possibili piovigini, un po' più aperto con delle schiarite in montagna. Nelle notti sono sempre possibili delle nebbie, soprattutto sulla bassa pianura e soprattutto sulla zona più occidentale della regione. Buon fine settimana a tutti!